Dati economici estremamente positivi se per quanto riguarda l'impresa, se per quanto riguarda l'artigianato, dati che danno un'ulteriore dimostrazione della grande capacità del nostro mondo produttivo che sta crescendo in tutti i comparti, salvo alcuni piccoli, purtroppo sacche negative, ma sono una cosa assolutamente animale, ma soprattutto anche quella in fase di miglioramento. Quindi grande ottimismo da parte dei presidenti sia di Confindustria che di Confartigianato, tutti estremamente ottimisti per il futuro. Adesso l'unico problema che è emerso, che è un problema esterno rispetto alle nostre possibilità di scelta, che è quello dei costi delle materie prime, dell'approvvigionamento delle materie prime e dei costi dell'energia. Questi sono due problemi che evidentemente devono essere affrontati a livello europeo. Io ho sempre detto e sostenuto e ribadisco che noi stiamo facendo molto per cercare di dare una risposta alle esigenze. Le ultime misure, per esempio, andavano proprio nella direzione di mettere a disposizione delle risorse per consentire alle aziende di assumere e nello stesso tempo di formare direttamente alcune specifiche professionalità. Per il futuro ho detto e ribadisco come rispetto alla programmazione europea dei fondi tutta la quota in più che riceveremo rispetto all'ultima programmazione verrà destinata in buona parte proprio alla formazione, al sostegno delle attività produttive e alla formazione perché riteniamo che sia un argomento su quale si debba essere molto attenti perché la regione Lombardia forma in percentuale molto di più rispetto al resto del paese ma ancora rispetto ai nostri veri competitors meno. Quindi noi dobbiamo rapportarci alla Germania, dobbiamo rapportarci alla Francia, dobbiamo rapportarci a queste grandi nazioni. Stiamo vivendo un momento particolarmente favorevole, direi per l'industria in primis, i numeri della manifattura sono veramente positivi, abbiamo ancora in territorio negativo la parte del tessile però stiamo recuperando anche su quel fronte quindi diciamo che possiamo essere davvero contenti. Quello tuttavia che preoccupa un po' sono alcuni fattori esogeni, in particolare il prezzo dell'energia, il prezzo del gas in particolare, che è triplicato nell'ultimo mese praticamente. A livello nazionale più volte si è parlato di ritocco del PIL verso l'alto contro ogni previsione. A livello Lombardo come stiamo andando? Direi ancora meglio, basta vedere gli indici, siamo sopra gli indici europei, sopra gli indici nazionali, diciamo che non possiamo assolutamente lamentarci, anzi abbiamo forse problemi di carenza di manodopera allenata con le domande dell'industria, ecco questo forse è un problema che sottolineerei.